io sto male e sono stile e c'è la signora che mi dice tu perché non vai a paese tua tu devi morire cosa va bene questa cosa uno che sta male e poi dice tu devi morire questo è vero va bene questa io devo morire questo male va bene signora ok grazie ok va bene grazie ok 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 va bene grazie tutto ok va bene ok va benissimo grazie di cuore grazie ok grazie ok ho capito ho capito va benissimo ho capito ok va bene